Una buonasera dal vostro Alessandro Angela, questa sera un altro itinerario, Biella, una città culturale, artisticamente popolare, come potete vedere da queste vie. Ecco, questo qui è il monumento delle olimpiadi biellesi, ecco, come diceva Gabri, da quando Gilardino è diventato un giocatore famoso, ci sono le olimpiadi anche qui. Anche qui c'è un porcaro. Scusa, sei biermi dove è la Menabrea? La Menabrea devi tornare indietro. Allora, ritorna indietro la prima rotonda di là, verso il centro-sinistra. Allora, torna indietro. Lì, sì, sì. No, just anybody Help! You know I need someone Help! When I was younger So much younger than today I never needed Anybody's help In any